Grave incidente per Massimiliano Morra, ballando con le stelle a rischio Massimiliano Morra, lattore di Furore 2, è stato coinvolto in un brutto incidente stradale. Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie su Ballando con le stelle, il dance show di Rai 1, che tornerà in prima serata sabato 24 marzo Le ultime novità ci svelano che uno dei suoi protagonisti è rimasto vittima di un brutto incidente automobilistico. Incidente stradale per Massimiliano Morra Le news di Ballando con le stelle svelano che l'Ansa ha rivelato che Massimiliano Morra è stato coinvolto in un incidente stradale. Fortunatamente le sue condizioni non sarebbero gravi, tanto da poter tornare subito a casa a riposare Ore d'ansia per Millie Carlucci, che potrebbe perdere una delle punte di diamante di questa scoppiettante edizione, che ha visto già la nascita di qualche presunto flirt sulla pista da ballo L'attore che stiamo vedendo attualmente impegnato nella fiction di Canale 5, Furore, dovrà restare continuamente monitorato per scongiurare ogni inconveniente Infine, Sara Di Vaira ha postato una foto su Instagram, dove esprime la sua vicinanza al suo partner, augurandosi che possa rimettersi in tempo utile per la puntata di sabato 24 marzo. Massimiliano Morra vittima di un incidente, ballando 13 a rischio L'attore napoletano Massimiliano Morra è stato protagonista di un drammatico incidente automobilistico che potrebbe compromettere la sua partecipazione al dance show di Rai 1 A rendere noto l'accaduto è stata L'Ansa, che però ha tranquillizzato i numerosi fans sulle lievi ferite riportate dall'affascinante Morra A proposito, l'attore ha pubblicato una storia su Instagram, dove ha invitato le persone ad essere prudenti alla guida, perché basta una frazione di secondo e la vostra vita può cambiare radicalmente Il protagonista di Cancelletto Furore 2, trasportato celermente all'ospedale, è potuto ritornare già a casa, sebbene debba eseguire ancora dei controlli per stabilire effettivamente l'entità dei danni riportati nello scontro Un incidente che potrebbe compromettere l'esperienza televisiva con Sara Di Vaira, con la quale ha stabilito un bellissimo rapporto, tanto da ipotizzare la nascita di qualcosa di più di una semplice amicizia Tutto sarebbe in mano ai risultati delle analisi mediche, a cui Massimiliano è stato sottoposto dall'equipe dei medici che l'hanno preso in cura Molto presto sapremo se sarà costretto a dare forfaita alla trasmissione di Rai 1, sebbene con grande rammarico, vista l'anomala passione nata con la sua insegnante di ballo, attualmente single Non ci resta che augurare a Massimiliano di rimettersi presto, sperando di vederlo volteggiare già sabato a Cancelletto ballando con le stelle